Trasferta Bergamasca per la Caronnese che vuole provare a chiudere con onore la stagione. Il bruciaporte avversario però più che mai temibile tra le sue fila, Thomas Alberti, capocannoniere del campionato, con 18 gol. Partono meglio i padroni di casa che provano a fare la partita costringendo corno e compagni sulla difensiva. Dopo un'accelerazione sulla sinistra, palla riconquistata da Khali che entra in area, ma il tiro è deviato in corner. Dall'angolo seguente si cerca ancora Khali, stavolta la conclusione dell'attaccante va alta sopra la traversa. Bruciaporte che può agire anche in spazi larghi, qui prima accelerata di Thomas Alberti che poi prova un tiro cross dalla sinistra, senza però trovare né porta né compagno. Minuto 14, si vede la Caronnese, Bruciaporte male in fase di impostazione, palla che finisce a corno, che però spara su Aceti in uscita che salva l'errore in precedenza. Momento positivo da parte dei Rossoblu da un calcio di punizione dalla destra, la palla ha capitato unesima, il tiro è debole e bloccato dal portiere. Tornando ad attaccare Brusaporto, sempre sull'asse Khali Alberti, i due attaccanti dialogano molto ma non trovano la porta. Al minuto 23, il centravanti lamenta un'entrata scomposta di un difensore della Caronnese. Per l'arbitro non c'è nulla, ma d'onor del vero, il volto di Alberti è una maschera di sangue, come si vede dalle immagini. Va nelle proteste del numero 9 con la direttore di gara che resta irremovibile sulla sua decisione. Si rivede la Caronnese ancora palla recuperata, stavolta sulla tre quarti. Si mette in proprio Filippo Austoni che però manda alle stelle. Finale di primo tempo ancora di stampo giallo-blu. Prima la conclusione potente di Alberti che finisce a lato. Successivamente il colpo di testa di Tirelli che però colpisce la traversa col pallone che torna in campo. Il primo tempo sembra trascinarsi verso lo 0-0 ma nel finale l'episodio che taglia le gambe alla Caronnese. Punito col secondo giallo questo intervento di Cosentino. Forse ingenuo il numero 3 ma un po' troppo severo il direttore di gara. In 10 contro 11 la montagna da scalare sembra essere ancora più insormontabile. La Caronnese va sotto dopo pochi minuti nella ripresa. Fallo di Noss su Tirelli. L'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Alberti che non da scampo è indelicato e segna così il suo diciannovesimo gol in campionato confermandosi in vetta alla classifica dei cannonieri. Il secondo tempo sarà tutto di stampo giallo-blu con la Caronnese barricata nella sua area di rigore. Indelicato è attento per due volte. Prima sul tiro di Calì. Successivamente sulla conclusione potente e in porta di Forlani. Alberti cerca il bis. Vuole la doppietta il centravanti ma clamorosamente sbaglia un controllo in area. Era solo davanti al portiere. Il raddoppio del brusaporto però arriva lo stesso a 6 dalla fine. Gran palla di Consonni per il taglio di Zambelli che colpisce in pieno il palo ma il tiro diventa un assist per Micheli che nel cuore dell'area segna il 2-0. Finisce così il brusaporto torna in zona playoff per la Caronnese. Sei partite alla fine di questo campionato.